Erano gli anni tra il 1991 e il 92 quando Sant'Agata Militello era messa a ferro e fuoco. Sette attentati in pochi mesi, due bombe, cinque atti incendiari furono la risposta della malavita organizzata alle denunce dei commercianti taglieggiati dal pizzo, sfociate nel primo grande processo alla mafia aperto a patti nell'ottobre 91. Il movimento portò anche a Sant'Agata la fondazione dell'Associazione dei Commercianti. Per celebrare il 25esimo anniversario dell'Associazione dei Commercianti, sabato a Sant'Agata la visita del capo della polizia Alessandro Panza, insieme a lui altri rappresentanti delle istituzioni, graduati delle forze dell'ordine, le autorità politiche, rappresentanti della magistratura, le istituzioni del territorio e gli alunni delle scuole. 25 anni fa con Tano Grasso, con tutti i commercianti e gli imprenditori di questo territorio, è partita la vera rivolta contro la criminalità. Da allora è nato il movimento anti-racket, ma sono dati leggi, organizzazioni, meccanismi istituzionali molto più efficaci e molto più efficienti, nei quali tutti i commercianti, tutti gli imprenditori, vittima del racket, devono avere fiducia perché siamo in condizione di aiutarli veramente. Le fasi durissime di quel periodo, i primi passi del movimento anti-racket e la sfida alla criminalità, fino ad oggi i punti salienti del dibattito. La controffensiva della mafia, dei Nebro, si giocò qui a Sant'Agata. I mesi di gennaio e febbraio a Sant'Agata furono un inferno dal punto di vista degli attentati ai negozi, dal punto di vista dei tentativi di omicidi che qui si giocarono. E qui si vinse la partita, si vinse con una risposta straordinaria che vede insieme la società civile, le associazioni anti-racket e le istituzioni, in particolare le forze dell'ordine. Oggi lo Stato ha strumenti adeguati, ma bisogna essere al pari e al passo con la criminalità, che sempre più si evolve, va in altre direzioni, pensa a nuove forme di estorsione, anche a quelle via web, bisogna adeguarsi alla circostanza.